Il sottosegretario della giunta regionale con delega e l'infrastrutture Umberto D'Annuntis ha comunicato che il ministero delle infrastrutture ha approvato la proposta di rimodulazione dei finanziamenti presentati da ANAS regione Abruzzo. Da qui è emerso che per la provincia di Teramo ci sono 35 milioni e mezzo di euro per la pedemontana a nord già finanziata per la progettazione che sta realizzando l'ANAS. Tratto che va da Floriano di Campli fino all'innesto della 259, un intervento di circa 35 milioni reso possibile con una riprogrammazione che è stata fatta qualche giorno fa in seno all'ANAS, quindi parliamo di intervento di 35 milioni di euro. A questo si aggiunge anche un altro finanziamento che abbiamo avuto qualche tempo fa di circa 2 milioni di euro per il finanziamento della progettazione per il tratto della pedemontana, quella che comunque dovrebbe ricongiungere la nostra provincia di Teramo fino a collegarsi ad Ascoli. Parliamo di un finanziamento di 2 milioni di euro che è stato finanziato con il fondo complementare al PNR qualche tempo fa. Oltre a questa notizia naturalmente siamo anche soddisfatti di un'altra notizia che è giunta qualche giorno fa, è stata convocata la conferenza di servizio per il quarto lotto della Teramo Mare, anche questa è un'opera strategica per la nostra provincia di Teramo. Finalmente ci siamo, ci sarà questa importante occasione dove sono stati convocati i comuni interessati da questa arteria e sarà anche l'occasione per annunciare un cronoprogramma. Ma in totale sono tre le grandi opere su cui la provincia di Teramo è al lavoro, il prolungamento del tratto stradale Teramo Mare, il potenziamento ferroviario Teramo Mare e la pedemontana Teramo Ascoli. Opere inserite nel libro bianco sull'infrastruttura e curato da Union Camere e Union Trasporti presentato a Pescara. Queste opere sono state inserite in questo studio e testimoniano l'impatto positivo che potrà avere per il rilancio della nostra provincia e del nostro Abruzzo. Sono indicatori economici, sociali e di sviluppo come testimonio anche il, basta vedere sul sito del governo dove in pratica è stato anche pubblicato tutte le opere strategiche italiane e anche queste opere sono state inserite a pieno titolo in questa piattaforma.